Ciao a tutti da Saludatore, questo è un saluto per i tuoi fan, ciao, buona serata e buon anno, buon Natale, buone feste, grazie, sei fortissima, tu mi trovi molto social, su Facebook, su Instagram, insomma mi trovate come Giudeci Kawa Official, perfetto, bene dai, ti ringrazio e salutiamo tutti, ci facciamo lo squirelli, ciao, 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 grazie.